Ciao a tutti, sono Roberto Ascioni, Product Specialist Audiofoni per Audioeffetti. Oggi vi parlo dei diffusori acustici Onde 880. Il suo corpo è in ABS e la griglia in alluminio. Un diffusore perfetto per le installazioni anche in outdoor, perché è impermeabile agli spruzzi d'acqua, certificata IP65. Il design, proposto da curve morbide e eleganti, la rendono in sintonia in qualsiasi ambiente circostante. Inoltre si possono scegliere due colorazioni, bianca e nera. Al suo interno troviamo un altoparlante da 8 pollici, un tweeter a cupola in seda da 1 pollice e caratteristica che la contraddistingue, sotto il pannello posteriore troviamo un radiatore passivo che fornisce un significativo rinforzo delle basse frequenze. Questa particolare architettura ci dà la possibilità di scelta di non installare subwoofer, soprattutto dove non ce n'è la possibilità per ingombro. La risposta in frequenza scende fino a 70 Hz. Tutto ciò la rende un vero full range, dalle dimensioni molto compatte, circa 38 x 26 x 24 cm. Può essere pilotato sia a 8 ohm che a 100 volt. Rimuovendo le due coperture sul retro, accediamo al selettore di alimentazione e ai terminali di collegamento. In dotazione troviamo anche la sua staffa C per fissarla orizzontalmente, su una parete o su una truss. A vari fori, centrali e laterali, permette di ritiltare e serrare il cabinet a nostro piacimento. Con una potenza di 80 Watt RMS e un SPL massimo di 105 dB, promette una resa audio cristallina e corposa, adatta per installazioni in attività commerciali, club, DJ set, lounge, terrazze e tutti gli ambienti dove riprodurre non solo speech, ma anche musica ad alta qualità. Inoltre, la serie Onde propone anche le sue sorline minori, le 660 e le 540, corrispettivamente con altoparlante da 6,5 e 5 pollici, con caratteristiche analoge, ma con dimensioni e peso più compatte, ideali per ambienti più piccoli. Insomma, le soluzioni ideali per il public address. Se vuoi avere informazioni su disponibilità e prezzi sui prodotti audiofoni, non devi fare altro che chiamare subito il nostro reparto commerciale a questo numero. Oppure scrivere una mail a ordinitalia-audioeffetti.it Per avere informazioni tecniche, invece, scrivi una mail a stream-audioeffetti.it e saremo lieti di risponderti. Ricordati di iscriverti sul nostro canale Audio Effetti Stream per rimanere sempre aggiornato. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo video da Roberto Scioni. Ciao!